DIFICENTI La capite questa parola? DI-FI-CE-I-MI-TI Questo siete tutti e due Se aspettavate rinforzi come io vi avevo detto a quest'ora lo avremmo preso e invece non signore, avete disubbitito ai miei ordini e vengo siete fatto scappare Qualcuno deve averlo avvisato Secondo noi ci deve essere una talpa Zitto, tappa, tappa Tappatevi la bocca voi due Accusare dei colleghi senza avere le prove per coprire le vostre minchiate E' una cosa gravissima Voi due siete fuori dal caso Comissario, ma almeno adesso abbiamo le foto Sappiamo che faccia il boss Certo, non sappiamo chi è il tizio col cappellino di merda però Ma perché di merda? Questo l'anno scorso si usava E comunque questo non è importante Da questo momento voi due vi occuperete soltanto dei posti di blocco Deficienti, deficienti Che cosa siete voi? Due defici... 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 Sparite!